Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano la ricostruzione. Sono circa 10.000 cantieri privati aperti negli ultimi due anni. Il dato emerso durante la presentazione del rapporto 2022. Risultati che solo un difficilissimo contesto esterno segnati dalla pandemia, dall'esplosione dei prezzi, dalla saturazione del mercato edilizio, delle conseguenze della guerra ha impedito fossero ancora più consistenti. Vediamo. La ricostruzione post-sisma del centro Italia entra nella fase matura. Negli ultimi due anni sono stati aperti 10.000 cantieri di edilizia privata che al giugno scorso ha fatto registrare 22.700 richieste di contributo. E' quanto viene riportato nel rapporto 2022 presentato dal commissario straordinario Giovanni Lenini alla vigilia del sesto anniversario della prima scossa di terremoto che il 24 agosto 2016 distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e altri piccoli borghi provocando anche la morte di 303 persone. Passo avanti notevole anche sul fronte degli interventi pubblici. Sono 365 le opere terminate ed oltre 315 sono oggi in fase di cantiere. Il rapporto, un documento di un centinaio di pagine, fa il punto sullo stato di avanzamento sia della ricostruzione privata e pubblica ma anche della riparazione delle chiese e degli edifici di culto proponendo per la prima volta anche un quadro completo del danno causato dal sisma di sei anni fa pari nel complesso a 26,5 miliardi di euro anche a livello dei singoli comuni. Nel dettaglio, per la ricostruzione privata i cantieri completati sono 7.256 con la riconsegna alle famiglie di 16.520 singole unità immobiliari, il 92% di tipo residenziale e l'8% a carattere produttivo. I cantieri autorizzati oggi sono circa 7.000. Anche gli interventi pubblici, nonostante le difficoltà generali, registrano passi avanti importanti. Nel giro di un anno, considerato anche i lavori sulle chiese, il numero dei cantieri chiusi è salito da 151 a 365. Quello dei cantieri aperti 316 è stato raddoppiato ed è destinato a crescere sensibilmente entro la fine del 2022. Anche grazie all'avvio concreto, entro dicembre, dei 525 interventi previsti nel cratere da Next Appennino, il fondo complementare al PNRR per le aree sisma 2009-2016. Tutto ciò nel mentre si è verificata una congiuntura sfavorevole legata all'aumento dei prezzi e alla diffusione del superbonus su tutto il territorio nazionale che ha determinato la saturazione del mercato dell'edilizia. Naturalmente nessuna enfasi, consapevolezza di ciò che è stato fatto, del molto che c'è ancora da fare. Il commissario straordinario Giovanni Lenini nel corso della conferenza stampa ha poi lanciato un messaggio al nuovo governo che si insederà dopo le elezioni del 25 settembre. Siamo bravissimi a gestire la prima fase delle emergenze, ma poi la storia ha più volte dimostrato che si fa molta fatica ad avviare il processo di ricostruzione perché ogni volta si ricomincia da capo. Per questo è fondamentale proseguire l'iter che porterà all'approvazione del codice delle ricostruzioni. E noi andiamo proprio sulla politica. Il voto online delle parlamentari ha deciso che il capolista per il Senato alle prossime elezioni politiche sarà Gabriella Di Girolamo. Stiamo parlando del Movimento 5 Stelle. Insieme alla parlamentare Daniela Torto è stata infatti la più votata nelle consultazioni sulla piattaforma utilizzata dal Movimento 5 Stelle. Ce ne parla Selenia Secondi. Le primarie che si sono svolte sulla piattaforma SkyVote per il partito del Movimento 5 Stelle hanno dato una riconferma alla senatrice Di Girolamo che dunque è di nuovo capolista. Sì, innanzitutto volevo ringraziare tutta la comunità del Movimento 5 Stelle abruzzese per questa riconferma. Credo che sia stato apprezzato il lavoro che ho svolto in quattro anni e mezzo e voglio acquisire questo dato in questo modo. Una riconferma per poter continuare proprio sulle tematiche che mi hanno visto maggiormente dedicata in questo periodo. Si torna in campo dunque adesso come si lavorerà in vista della campagna elettorale? Beh, una campagna elettorale un po' particolare, ce lo possiamo dire, in piena estate sotto l'ombrellone quasi. Credo che sarà una campagna elettorale molto viva. I nostri saranno punti tematici già ben definiti e portati avanti dal Presidente Giuseppe Conte in quest'ultimo periodo quindi verrà rimarcato e anche recriminato quello che è stato il nostro risultato dell'azione politica svolta in questi quattro anni e mezzo. Sono molto convinta che i cittadini sapranno ascoltarci perché in questo momento dovremo colmare quel gap che è stato proprio sulla comunicazione da parte nostra. Forse troppo impegnati nelle attività da svolgere, nei risultati da portare a casa e quindi sui territori non siamo riusciti, non ci siamo dedicati molto a sbandierare, a mettere le bandierine sui nostri punti raggiunti. Se guarda dall'alto la nascita di questo terzo polo, la situazione generale adesso come giudicherebbe da pubblico cittadino mettendosi nei panni dei cittadini? Ma questo terzo polo è ancora da inquadrare quale sia perché ognuno lo recrimina. Per me il terzo polo siamo noi, è chiaro. Il polo giusto, il polo che lavora per i cittadini, che parla di lavoro, che parla di sociale, di necessità. Guarda all'autunno, guarda ad ottobre, le necessità di cui i cittadini andranno ad avere bisogno. Quindi questo è un tema che abbiamo posto anche al Presidente Draghi quando abbiamo notato che si parlava di tutt'altro e che ha poi di fatto in qualche modo contribuito ad avviare questa particolare campagna elettorale. La giunta regionale d'Abruzzo, riunitasi ieri pomeriggio in seduta straordinaria, ha autorizzato Ersi, l'ente regionale del servizio idrico integrato, alla captazione di acqua in caso di necessità in emergenza per una portata media di 90 litri al secondo mediante l'emmungimento di acqua dagli esistenti pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica a bussi sul Tirino. L'operazione sarà effettuata per il tempo strettamente necessario, presumibilmente dieci giorni, alla riparazione del pozzo numero 8 del Campo Pozzi, proprio di bussi, andato momentaneamente fuori servizio e per il ripristino delle condizioni di normalità. Tale circostanza ha infatti indotto ACA a chiedere ad Ersi e Abruzzo l'autorizzazione per l'attivazione del prelevo di acqua dai pozzi di emergenza di via della Repubblica per garantire in parte i volumi necessari per l'uso idrico potabile del comprensorio pescarese, evitando riduzioni di portata erogata, turnazioni e funzionamenti intermittenti. Cambiamo argomento, saranno quattro i nuovi asili nido comunali che nasceranno sul territorio comunale di Pescara grazie ai fondi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ad annunciarlo l'assessore competente Gianni Santilli. Resi noti nei giorni scorsi le graduatorie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda la costruzione di nuovi asili nido. Ad accedere a questi fondi anche il Comune di Pescara che ha ottenuto oltre 4 milioni di Euro. Un risultato eccellente per il Comune di Pescara in quanto abbiamo fatto la richiesta per quattro asili nido e sono stati finanziati tutti e quattro, tranne uno con riserva. Però noi dovremo soltanto giustificare alcune cose al Ministero. Parlo dell'asilo nido di via Rubicone, invece gli altri asili nido finanziati regolarmente sono via Celestino V, via Lagosoletta e via Santina Campana. Dunque i tempi quali saranno? Noi prevediamo di fare la progettazione entro la fine dell'anno 2022 e affidare l'incarico alle ditte che vinceranno, la costruzione di questi asili entro il 2023. Va ricordato che l'estate scorsa in città era scoppiata la polemica sulla carenza di posti negli asili nido comunali. L'obiettivo del fondo PNRR appunto è quello di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Anche questo però già quest'anno avevamo risolto perché abbiamo fatto delle convenzioni con gli asili privati e quindi diciamo che quest'anno avevamo già coperto un po' tutte le richieste. Però con questi fondi, con l'istituzione di questi quattro asili nido risolveremo tutta la problematica per le famiglie di Pescara che hanno questa necessità di mandare i bambini agli asili nido. Solo 18 gli impianti sportivi funzionanti attualmente a Chieti. Per tali impianti arriva la proroga per la gestione per altri tre anni. La grande attenzione data allo sport premia una città che da sempre ama praticare le varie discipline sportive e chiedeva la riapertura di alcuni impianti oggi funzionanti. Prorogate di tre anni le gestioni in scadenza per gli impianti sportivi a Chieti. Assolutamente, abbiamo adottato in giunta una delibera alla quale abbiamo lavorato insieme agli uffici recependo quanto disposto dal mille prorogo perché ritenevamo importante dare un sostegno concreto alle associazioni sportive che vedevano le proprie gestioni scadere lo scorso 31-12-2021. Abbiamo ad oggi ripreso la palla in mano e abbiamo adottato questa delibera che porterà ad una proroga di tre anni rispetto a quelle gestioni scadute. non è soltanto il recepimento del mille prorogo che è una volontà ferma che come amministrazione insieme al nostro sindaco volevamo profondere proprio per far sì che queste associazioni sportive potessero vedersi ristorate da un punto di vista ovviamente della gestione di quegli anni Covid che sono stati durissimi per lo sport. Noi siamo stati da subito attivi come amministrazione per far sì che la ripresa post-pandemica fosse piena e devo dire che la nostra città va nella direzione giusta. Si è parlato tanto negli ultimi giorni della riqualificazione del campetto alla villa ma qual è lo stato generale degli impianti sportivi a Chieti adesso? Sugli impianti sportivi in generale di 18 impianti sportivi tutti e 18 sono pienamente fruibili un grande risultato della nostra amministrazione. Lo sport in città vive fasti mai vissuti in passato. Ricordiamo nei precedenti cinque anni impianti importanti chiusi per diverso tempo. Noi abbiamo riaperto tutti gli impianti, 16 in gestione in diretta con gestioni virtuose che abbiamo efficientato sempre di più e 2 in gestione diretta, anche lì una gestione davvero efficiente che come amministrazione portiamo avanti con tanti sforzi e con tanta passione. Questo anche per rispondere con fatti concreti a qualche populismo di troppo da parte delle opposizioni alle quali mi preme ricordare che gli impianti sportivi non hanno mai vissuto in passato fasti come quelli attuali. Ricordo tutti e 18 gli impianti sportivi pienamente fruibili e in tante occasioni diamo anche l'utilizzo in condizioni di gratuità per portare i grandi eventi sportivi in questa città. Tanti sono stati in questi due anni gli appuntamenti che hanno rafforzato quel concetto di marketing sportivo nel quale crediamo fermamente. Il console ucraino Maxim Rock è stato ricevuto ieri a Pineto dal sindaco Robert Verrocchio. La visita è legata alla volontà dell'ambasciata di aiutare il più possibile i connazionali nel mettersi in regola con i documenti. Ad oggi in Abruzzo sono circa 10.000 gli ucraini censiti. Maxim Rock del consolato ucraino oggi a Pineto al centro polifunzionale per una questione legata ai documenti, alla regolarizzazione delle popolazioni ucraine. Cosa state facendo nello specifico? Oggi siamo arrivati a Pineto per aiutare i nostri cittadini con i documenti che giunti in Italia senza qualsiasi documento oppure con passaporto ucraino che non dà permesso di viaggiare all'estero. Perciò siamo qua per aiutare i nostri cittadini. Quante persone ucraine sono censite in Abruzzo? Più o meno 10.000 persone. E com'è la situazione? Come si trovano? Come ho sentito la situazione in Abruzzo è molto comoda per i nostri cittadini. Ci sono tanti posti bellissimi, alberghi, agriturismi eccetera dove parte italiana ha accolto molti nostri cittadini e dà aiuto con tutto il necessario. È una bella stagione, l'estate c'è il sole, c'è il mare ma quali sono i problemi dei vostri connazionali? Quali sono i problemi delle popolazioni ucraine qui in Abruzzo che devono affrontare? Secondo me è un problema grande questa lingua italiana perché non sappiamo quando finisce la guerra e i nostri cittadini non sanno quando possono tornare in Ucraina perciò devono imparare italiano e i bambini devono andare in scuola italiana secondo la legge italiana. Perciò questo è il più grande problema per i nostri cittadini. Cosa prevedete? Per quanto tempo ancora resteranno gli ucraini in Abruzzo? Non lo so, spero che la guerra finisca molto presto e tutti i cittadini possono tornare in Ucraina con la sua famiglia. Sono terminati alla vigilia del ferragosto gli scavi sul sito archeologico di Lecce nei Marsi. Le indagini che vanno avanti dal 2018 hanno riportato alla luce uno dei più antichi villaggi del centro nord Italia di epoca neolitica. le indagini realizzate ed elaborate dal team dell'Università di Pisa in sinergia con la sovrintendenza archeologica delle belle arti. Una scoperta di valore assoluto e infinita nel tempo che costituirà sicuramente una ricchezza in più per tutto l'entroterra bruzzese ma non solo. È a Lecce nei Marsi il villaggio preistorico più antico del centro nord Italia. Un insediamento umano del Neolitico datato 6.800 anni fa. Il sensazionale ritrovamento è avvenuto in località Rio Taverna. Scavi curati questi dall'Università di Pisa in sinergia perfetta con la sovrintendenza archeologia e belle arti regionale. La datazione è stata stabilita dagli esperti attraverso il metodo del radiocarbonio. Sono partiti gli scavi e hanno ritrovato effettivamente i resti di un villaggio al che l'Università di Pisa di concerto con la sovrintendenza archeologica hanno istituito qui a Lecce nei Marsi una scuola internazionale di archeologia partecipata da ragazzi provenienti da ogni angolo del mondo. Quindi noi l'estate abbiamo qui ragazzi che vengono da Stati Uniti, Canada, Brasile, Polonia, Inghilterra. Insomma abbiamo una rappresentanza mondiale sul territorio. Gli scavi si sono conclusi esattamente il giorno prima del Ferragosto. Sono state riportate alla luce tra le altre preziosità e testimonianze dal passato una struttura abitativa e una macina per il grano. È il primo sito di un'economia stanziale, quindi un'economia che passa dal nomadismo allo sfruttamento del terreno. Quindi è il primo villaggio di agricoltori dell'Alveo del Fucino. Sono stati trovati resti di capanne, addirittura resti di macine, macine per la macina del grano. Sono stati trovati resti di vasi, di cocci. Ancora una serata da tutto esaurito per lo spoltore Ensemble. Protagonista ieri sera, Morgan, il fondatore frontman del Blu Vertigo, ha incantato il pubblico con brani del suo repertorio. Non solo, ad arricchire la portata artistica della serata, il maestro Angelo Valori insieme a Medit Orchestra. Dopo l'esibizione dei giovani artisti del Tenco Ascolta è salita sul palco dello spoltore Ensemble la Medit Orchestra, diretta dal maestro Angelo Valori con lo special guest Morgan, evento che ha registrato il tutto esaurito. Un concerto di grande intensità vocale e pianistica, riproponendo successi personali legati alla sua esperienza con i Blu Vertigo, come Altrove, Celi Neri e classici della canzone italiana da Umberto Bindi con Arrivederci a Tenco, passando per Battiato a De Andrè. I brani sono stati magistralmente riarrangiati da Morgan e dai musicisti del Conservatorio di Pescara per la Medit Orchestra. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco arrivederci l'artista ha parlato a lungo fra un brano e l'altro dell'importanza della ricerca armonica della canzone italiana e della sua grande originalità espressiva e culturale un patrimonio da tramandare e conservare parole di elogio per l'Abruzzo che lo ha accolto in molti concerti e per la forte empatia della sua gente. Tra l'altro io volevo ringraziare proprio la regione Abruzzo perché in questo mese mi sta ospitando con grande generosità ed è un bel vivere insomma si vive bene, si mangia bene, si sta bene senza, diciamo così senza darsi troppe arie è molto è una regione empatica prossimi appuntamenti stasera sabato 20 con Tosca e la Morabezza d'estate gran finale domenica con Guardia Grele Opera all'Esemfan Terrible di Miriam Ricordi Siamo ora alla pagina dello sport penultimo test precampionato per il Pescara che domani alle ore 17 allo stadio Ghetto di Febbo di Silvi sfiderà il Rimini squadra di pari grado ma inserita nel gruppo B della Serie C amichevole e probante dunque per la squadra di Colombo che dopo la prima di lusso con la Dana ha poi affrontato sempre squadre che partecipano a campionati dilettantistici potrebbe avere i suoi primi minuti in biancazzurro l'ultimo arrivato il centrocampista Salvatore Aloi prelevato dall'Avellino nell'operazione che ha riportato in Irpinia Giuliani Ianes e sono sempre le dinamiche di calciomercato al centro dell'attenzione la prossima settimana sarà quella decisiva per il ritorno di Riccardo Brosco del Vicenza già Pescara nella stagione Zemaniana 2011-2012 il DS dell'Icarri è sempre a caccia di un altro play con Andrea Ghion destinato al Catanzaro il Pescara spera in un ulteriore ritorno quello di Luca Palmiero che attende una chiamata però dalla Serie B restano vive anche le ipotesi dello svincolato Andrea Rigoni ex capitano del Teramo e di Joshua Tengorang dalla Cremonese per l'attaccante si fa difficile la pista Eugenio Dursi così i nomi caldi nelle ultime ore sono quelli di Edoardo Vergani della Salernitana e Kingiudo dell'Olbia 13 gol nella scorsa stagione in Serie C fronti sui quali i dirigenti del Delfino potrebbero affondare la prossima settimana ed un po' sorpresa la Lega Nazionale di Lettanti ha deciso nel pomeriggio di ieri di varare i gironi e calendari di Serie D per le 5 sorelle della nostra regione sarà ancora Girone F per il primo derby bisognerà attendere il 2 ottobre ufficializzati ieri in maniera piuttosto fredda a differenza degli altri anni i gironi e calendari di Serie D per la stagione 2022-2023 9 i gironi dei quali ha E.D. a 20 squadre con un organico definitivo di 166 club tra queste figura anche il jar inserito nel girone I ma messo con riserva in virtù del decreto Tar Lazio dopo il ricorso degli etnei alla finestra ci sono anche Teramo e Campobasso infatti il prossimo 25 agosto il Consiglio di Stato dovrà pronunciarsi sulla riammissione in C delle due formazioni che hanno provveduto inoltre a chiedere in subordine l'iscrizione alla prossima Serie D e poi c'è da valutare anche la posizione della neonata SS di Città di Teramo che sta lavorando anch'essa per un posto in quarta serie il calcio giocato invece dice che il 4 settembre si disputerà la prima giornata di campionato tra le sostre previste 25 dicembre 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della rappresentativa Serie D la prossima edizione della Via Reggio Cup per quanto riguarda i turni infrasettimanali in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi 21 dicembre e 6 aprile 2023 per le abruzzesi Chieti Avezzano Pineto Notaresco e Vastese sarà ancora una volta Girone F dove sono state inserite inoltre 4 squadre laziali Roma City Ex-Fuggi Nuova Florida squadra di Ardea Trastevere e in ritorno a distanza di una stagione della Cinzia Albalonga 6 le formazioni marchigiane Fano Monte Giorgio Porto D'Ascoli San Benedettese Tolentino e Vigor Senigallia 2 le molisane Termoli e Vasto Girardi e una campana il Matese Nessun derby abruzzese alla prima il Chieti del neopresidente Ettore Serra riceverà l'Angelini il Vasto Girardi del tecnico Tommaso Coletti gare casalinghe anche per Pineto e Notaresco che riceveranno rispettivamente Termoli neopromossa e Matese dell'ex Vittorio Esposito trasferte invece per Avezzano a Porto D'Ascoli remake del primo turno di Coppa Italia e per la Vastese a Tolentino primo derby stagionale alla quinta quando al De Marsi ci sarà Avezzano Vastese sarà il primo di due derby consecutivi per i marsicani che sette giorni dopo faranno visita al Chieti alla settima primo derby anche per il notaresco del tecnico Tiziano De Patre che al Savini riceverà il Chieti rosso blu che una settimana più tardi sempre tra le muramiche riceveranno l'Avezzano a fine ottobre primo derby anche per il Pineto di Daniele Amaulo che al Mariani Pavone incrocerà i cugini del Chieti derby anche al Giro di Boa quando si sfideranno il 21 dicembre all'Aragona Vastese allenata da Giuseppe Ferrazzoli e Pineto al netto di sorprese covid in primis il campionato si concluderà il 7 maggio prima di dare via playoff e playout fissate anche gli orari ufficiali dal 4 settembre si giocherà alle 15 per passare alle 14.30 il 30 ottobre ritorno alle 15 dal 26 marzo mentre il 14 maggio il fischio d'inizio sarà alle ore 16 intanto domenica 21 agosto primo turno di Coppa Italia esordio stagionale per l'Avezzano del presidente Gianni Paris che sfiderà al Riviera delle Palme il Porto d'Ascoli fischio d'inizio ore 16 cambiamo disciplina il direttore sportivo dell'impavida Ortona Volley Massimo Donofrio non si nasconde e analizza la forza dell'organico costruito che ha come obiettivo il ritorno immediato nella categoria superiore Sergio Zappalorto direttore sportivo Massimo Donofrio che squadra è Massimo? Domanda più scontata banale ma inevitabile è una squadra che deve fare un campionato di vertice obbligatoriamente nel senso che siamo ancora un po' dispiaciuti forse anche un po' frastornati per quello che c'è solo l'anno scorso l'ultima giornata ci ha visto retrocedere e diciamo che siamo partiti con la grinta di voler recuperare subito questa categoria quindi abbiamo allestito una squadra che riteniamo possa riuscire a fare il salto chiaramente poi sarà il campo che ci dirà se è quello che abbiamo pensato è stato giusto squadra competitiva che vuole giustamente tornare subito nel campionato di A2 e soprattutto Massimo credo che siete d'accordo con me rigenerare ricreare entusiasmo nella città che l'ha perso a strada facendo sicuramente non è anche neanche un caso che stiamo cercando abbiamo cercato di creare un gruppo anche diciamo relativamente giovane perché sono ragazzi tra il 99 e il 2000 e i più con degli innesti di giocatori un po' più datati esperti che nell'insieme credo possono creare veramente un gruppo vincente e questo poi diciamo di solito quando poi ti affili un po' ai giovani l'entusiasmo del paese della cittadina automaticamente si esalta ulteriormente credo io Massimo ha detto citato datati chiudiamo con una battuta inevitabile c'è anche un nonno tra virgolette ma averne di questi nonni come Marshall che sicuramente fa la differenza benvenuto beh sicuramente lui è un grande giocatore ancora da un certo punto di vista siamo qui anche meravigliati se vogliamo nel pensare che abbia scelto noi forse ce la meritiamo perché nel panorama delle squadre italiane al di fuori della Superlega restiamo credo sempre una delle società più di riferimento importanti e quindi la sua scelta alla fine è ricreduto su di noi nonostante fossero in diverse società a volerlo questo era il nostro ultimo servizio quelli che avete visto sono disponibili sul nostro canale youtube o al sito www.tv6.it l'informazione torna invece alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti